E' una polveriera il Brindisino, la terra di mezzo della Xilella fastidiosa. In rivolta agli agricoltori per la strage annunciata degli ulivi infetti. Gli uomini del corpo forestale stanno incontrando mille ostacoli nell'applicazione del nuovo piano Silletti. Circa 100 notifiche di abbattimento forzoso per 3.000 piante nelle zone cuscinetto e di sorveglianza. Le maggiori difficoltà si concentrano su Torchiarolo, dove è stato convocato un vertice con il sindaco. con gli agricoltori colpiti dalle notifiche di distruzione e la Regione Puglia. La riunione doveva servire ad illustrare i risarcimento previsti per gli espianti volontari, ma ben presto si è trasformata in una bagarre. I comitati ambientalisti hanno contestato duramente gli espianti, spingendo gli agricoltori a disobbedire. Casili, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha sostenuto la battaglia. La protesta anti-abbattimenti si sposterà a martedì con un sit-in dinanzi alla Presidenza regionale. La situazione rischia di sfuggire di mano. Bruxelles, infatti, sta premendo il governo italiano per velocizzare le misure anti-xilella. Il ministro Martina è in costante contatto con la Regione per monitorare il numero di espianti effettuati. Il piano Silletti, però, sembra già inceppato. Un rischio altissimo per la Puglia e l'Italia. Se la Commissione europea non toccherà con mano gli abbattimenti, si aprirà una maxiprocedura di infrazione, ossia il blocco dell'intero comparto florovivaistico nazionale e per la Regione Puglia centinaia di milioni di euro di risarcimento in arrivo.